Per l'arte del cinematografo chiediamo a Gina, segretaria di edizione Che cos'è un diario di lavorazione? In breve? No, ci vuole un'ora Ci vuole un'ora, ci vuole un'ora Allora chiediamo a Chantal, e Chantal è il momento di pausa del film Che cos'è il piano di lavorazione? No, guarda, è una cosa molto complicata Una domanda più semplice, cos'è il manfrotto? Il manfrotto è anche questo Lo spangrassi? Il velatino, dici veloce, veloce, che cos'è il velatino? Il velatino è quando il sole è velato Il velatino è quando il sole è velato, chiediamo a Laura Il manfrotto Il manfrotto non so cosa sia, cos'è? Che cos'è un manfrotto? Cos'è un manfrotto? Cos'è un manfrotto? Non lo so Il manfrotto, quando ti sto un po' manfrotto No, lui dice passami il manfrotto Ragazzi, sono etari Qui è tutto un manfrotto Una palla Una palla, il manfrotto con una palla Noi andiamo a lavorare Cos'è un manfrotto? Cosa sapete? Se ti dico... Sei un faccia di manfrotto, ti offendi o sei fiero? Quasi fiero A tuo posto chiederei agli attrizzisti E agli attrizzisti e macchinisti Prego Scusa, puoi dirci il manfrotto? Non si può sapere su questo set che cos'è il manfrotto Qualcuno sa cos'è il manfrotto? Però so che c'è il pieno di lavorazione Cosa sapete? E alac так